Benvenuti ragazzi, sono MarioA96VT, in questo nuovo video, raga, oggi un nuovo video un po' particolare, oggi raga andiamo a vedere le nuove divise di ciclismo, appunto, visto che la nuova stagione è alle porte, comunque comincia tra pochi giorni, da quando sto registrando questo video, quindi subito un bel like mi raccomando, iscrivetevi al canale, se non siete ancora iscritti, andiamo a vedere subito raga la divisa del team Ineos, qui con Pippo Ganna, intanto in in foto, bella, ditemi sotto nei commenti quale divisa vi piace di più tra queste qui, io ho due o tre le ho già in mente, ma quando ci arriviamo ve lo dirò, quindi, di divisa dell'Age Deser, classica, direi, poi Astana, che qui sta, ci sta, Inter Marché con Rui Costa in foto, qui con, notiamo anche le, con le strisce appunto, i date, poi Mamma Mammaia è la Bora, divisa è la Bora, Movistar, questa raga è una, la Sudal Quickstep, è una delle divise di quest'anno, che mi fanno impazzire, è tanta tanta roba, veramente, mi piace tantissimo, tantissimo, guardate quei colori, è proprio bella raga, cioè non, poi qui in foto c'è la Philippe, e andiamo avanti, con Trek Segafredo, anche qui c'è Pedersen con le strisce di date, sono stati campioni del mondo, arriviamo raga, al, alla divisa della Lula, questa è la, praticamente questa qua è la Ex, Bye Bye Exchange, è la divisa anche qui, è tanta roba, andiamo ora, alla parte 2, delle nuove divise, 2023, vi lascio il link in descrizione, di dove appunto sto vedendo queste foto, Maglia dell'Alpesin, bella anche questa, assolutamente, poi, Barem Vittorius, sembra stata bella, Cofidis, classica, direi, F, è questa raga, è la seconda, eh, divisa che mi piace, tantissimo, la maglia, la maglia, la maglia, la maglia della gruppa MA, FDG, che tra l'altro, tipo Pino, che è qui in foto, è l'ultimo anno da, che correrà, quindi, ultimo anno da prof, da professionista, andiamo avanti con la maglia della Jumbo Visma, classica, Archea, poi, DSM, con Dead EganCorp, in foto, e quindi, raga, queste sono un po' le divise, per il 2023, quelle mi piacciono di più, sono, come dicevo, quella della gruppa MA, mi piacciono un po' tutte, però, quelle sono un graino sopra, sono quelle della gruppa MA e della, eh, Quickstep, praticamente, quindi, raga, per questo video può finire qui un video veloce, ma, giusto per farvi vedere un po' le nuove divise, se ce ne saranno delle altre, perché queste mi sa che non sono tutte le squadre, però, se ci danno delle squadre, potremo andare anche a vedere quelle, del ciclismo femminile, fatemelo sapere con un bel like, iscrivetevi, nel prossimo video, bello!